Sarà senza dubbio una trasferta importante la prima di due consecutive. A Foggia domani inizio ore 15 l'arbitro Volpi di Arezzo. Piloni in conferenza stampa è stato molto chiaro. La squadra deve tirare fuori gli attributi. Abbiamo lavorato su due moduli, il 4-3-1-2 e il 4-3-3 che è quello solito. Non è detto che adotteremo da subito il 4-3-1-2. Secondo noi invece sarà così con Marras tra le linee alle spalle di Mancuso e Monachello. Su Mancuso e Monachello, Piloni è stato chiaro, giocheranno dall'inizio insieme. Brugman regista perfettamente recuperato il capitano. Le mezziali saranno Melegoni e Memusciai. Dietro naturalmente si dovrà cambiare per le assenze di Gravillon e di Del Grosso. Causa squalifica, dunque Ciofani a destra, Balzano sulla versata opposto. Il ritorno e il rientro di Campagnaro a distanza di tre mesi dall'ultima partita. Giocata l'11 novembre a Palermo 3-0. Il verdetto finale è poi il solito problema di natura muscolare. Ma in questa settimana Campagnaro si è allenato regolarmente con i compagni di squadra. Andiamo dunque ad ascoltare Pilon. Un Pilon diverso dal solito. Molto concentrato e poco disponibile, se vogliamo, alle battute. Vediamo. Abbiamo un modulo consolidato che ha i 4-3-3, che ha delle certezze che sono mesi che andiamo avanti giocando con questo sistema di gioco. E abbiamo provato anche un altro sistema per avere un'alternativa. La stiamo provando, perciò non è detto, devo solo pensare su come giocare. Un modulo e un altro. I moduli non risolvono le partite. I moduli aiutano i giornalisti a svariare a destra manca durante la settimana e dire facciamo così, facciamo colà. Ma al di là dei moduli, un altro componente che secondo me è determinante, quello che abbiamo dentro, il cuore che ci mettiamo dentro, quello che è fondamentale. Lo spirito di rivalza, la rabbia che abbiamo accumulato in settimana per i 5 gol che abbiamo preso. Dobbiamo tirare fuori tutti questi componenti, tirare fuori al di là di tutto, ma una rabbia, agonistica, tiriamo fuori i coglioni. Insomma, da questo punto di vista bisogna essere uomini, andare in campo e fare quello che dobbiamo fare. Assolutamente d'accordo con lei, però un fatto è certo, vedremo insieme Monachello e Mancuso dall'inizio, mi pare scontato questo o no? Sì, credo proprio di sì. Loro due ci saranno, sì. Lo sai che ha suscitato secondo me qualche perplessità, cioè la mancanza di distanza tra i reparti. Io mi riferisco al primo tempo col Brescia, perché l'inizio è stato positivo, il Pescara ha avuto due grandi opportunità per sbloccare la situazione, poi però mi è sembrato in balia dell'avversario, ma perché la squadra era lunga e larga. No, è successo questo, fino ai primi 20 minuti abbiamo fatto, secondo me, bene la gestione della partita. Assolutamente. Perché potevamo fare due gol e non c'era niente da dire. Dopo il ventesimo abbiamo preso il rigore, la squadra ha voluto reagire immediatamente invece di far passare quei dieci minuti di buon disbandamento e lì loro ce ne hanno approfittato. Cioè non ha usato la testa, diciamo? Non l'abbiamo usato, non l'abbiamo gestito bene in quella situazione, nel senso che non dovevamo assolutamente sbilanciarsi così perché hai fatto il loro gioco. Ho visto che ho fatto una buonissima partita a Palermo, ho giocato molto bene, dei giocatori come Galano, Kragl, Iemmello insomma che sono bravi davanti, Kragl che ha una botta, c'è un tiro da fuori aria notevole, anche sulle punizioni è molto bravo, perciò dobbiamo stare molto attenti a queste cose qui. Mentre Galano è inventiva, bravo uno contro uno, chiude bene la porta, sicché Iemmello è un giocatore ritrovato, nel senso che è sempre pericoloso dentro l'aria.